eccoci ragazzi di nuovo un altro video nel video precedente vi ho parlato della serie nickel dell'acustica audio che prevedeva un compressore stile 1176 ln e revisione h quindi black e grey un ecolizzatore mono e un ecolizzatore stereo che sono la stessa identica cosa uno mono e appunto l'altro coi due canali stereo e preamplificatore oggi invece vi parlo dello smoke o smoke cioè fumo smoke in inglese smoke lo sto prendo adesso con voi per la prima volta è una macchina secondo me molto interessante questo è l'ecolizzatore perché anche qui abbiamo l'ecolizzatore compressore preamplificatore l'ecolizzatore questo è già a vedere così di prima occhiata è un pull tech praticamente magari leggermente modificato ma è un pull tech stereo cioè abbiamo canale a che lo si attiva da qua e vedete che si accende lo rischiaccio si disattiva o canale b si accende da qua lo ripremo si spegne quindi ai b o l r ma può lavorare anche in mid side se schiaccerò mid side questo canale a diventerà il canale m mid canale b diventerà il canale side lo riclicco mi torno in l r quindi canale l canale r poi abbiamo il c link per linkare i due se la voglio lavorare in stereo o se voglio lavorare invece in mid side quindi divisi lotterò slincato al momento lo posso linkare per farvelo vedere in stereo poi abbiamo model possiamo scegliere model hp 1 e hp 2 hp 2 abbiamo anche un cutoff della frequenza da off 16 20 25 30 40 50 60 70 80 100 100 20 150 180 220 220 250 hertz cutoff quindi è un high pulse filter vedete pendenza da vedere così a occhio è un 18 decibel d'ottava ok con hp 2 con hp 1 invece il filtro ce l'ho ma è un filtro con risonanza quindi è un high pass filter high pass al filter mi passano gli alti e taglia le basse con risonanza impostata 90 40 off non ci sono misure intermedie perché vedete che se rilascio qui a metà torno va o a 40 o ad off quindi 40 o 90 dove vedete se l'ha imposto 90 abbiamo un leggero boom prima della frequenza di taglio ma leggerissimo 0 2 decibel a 40 invece guardate che bump 2,5 decibel intorno ai 40 hertz mi cambia la storia o off se lo mette invece in high pass filter 2 modello di high pass filter vedete taglia ma non abbiamo il bump è abbastanza neutro abbastanza liscio high pass filter 1 high pass filter 2 poi abbiamo invece modern low pass filter 1 e low pass filter 2 low pass filter 1 anche qui off 22 hertz o 22.000 hertz 11 hertz e vedete come taglia a 22 abbiamo un bump prima della mia frequenza netta proprio un muro di taglio delle altissime frequenze quindi un roll off netto abbiamo prima del roll off netto un aumento di ben 2,5 decibel intorno ai 17.000 17.000 3 hertz 11 invece non abbiamo più il bump ma è più regolare in low pass 1 in low pass filter 2 io ho un filtro che taglia con una pendenza direi del 12 18 decibel d'ottava taglia fino a 1800 hertz da 24.000 a 1800 hertz quindi abbiamo due scelte di low pass filter 2 scelte di high pass filter più dicevo è un pull tech e qp1 a perché se io lo vado attivare vedete che ho messo c link quindi mi si attivano tutte e due se muovo si muovono vedete tutti e due i canali dove ho il classico potenziometro di scelta delle basse frequenze 20 hertz 30 hertz 60 hertz 100 hertz abbiamo lo lascio per esempio 30 abbiamo il boost aumento le basse frequenze e attenuation delle stesse frequenze perché lo lascio sempre impostato 30 e crea il famoso trick delle basse vedete taglio e aumento taglio e aumento questi sono i due canali lr quindi crea anche le idiocresie tra canali o la differenza dei componenti di risposta dei componenti in frequenza in fase in linearità eccetera eccetera è la tolleranza tra i componenti vedete quindi hanno agito nel campionare anche hanno campionato non solo le caratteristiche di questo ottimo ecolizzatore ma anche le sue tolleranze tra canale l e canale r quindi classico trick scelgo la frequenza e vado attenuare a dare boss e attenuazione delle basse frequenze e questo tris qua di pomelli è sulle basse frequenze poi abbiamo questo tris di pomelli 123 123 sulle alte frequenze cioè sceglierò 1500 3000 4000 5000 6000 8000 10.000 12.000 14.000 16.000 come nel pull tech eqp1 originale e mettiamo per esempio 5000 e col boss da robust qui non c'è l'attenuazione c'è solo il boss e con questo sharp broad stretta o larga la q broad larga sharp stretta vedete ok voglio aumentare le classiche 14 16.000 aumento guardate il comportamento del filtro guardate che roba eccezionale aumento e poi se voglio attenuare userò questo selettore 20.000 scelgo la frequenza 10.000 o 5.000 e con attenuazione taglio ma attenuo 20.000 10.000 5.000 non è come qua che attenua la stessa identica frequenza cioè impostato 16.000 attenuo 16.000 attenuo su una di queste tre quindi qui l'attenuazione diventa infatti il tris è 1 2 e 3 questi due qua ok basse alte e attenuazione delle alte vedete che mi abbassa quindi si creano delle curve abbastanza particolari vedete riporto tutto a default è il classico pull tech per dirla in soldoni poi abbiamo un input output l'output è impostato di default a 0 l'input è impostato di default a meno 18 io lo metterò a 0 perché perché entro già con la mia sinusoide a di miller sa meno 18 inutile infatti meno 18 questo è l'emulazione di un v meter vedete che a meno 18 mi segna 0 circa così devo abbassare appena appena un pelo così mi segna 0 ok perché entro meno 18 full scale dbfs decibel full scale cioè digitali scala digitale entro questo mi amulo un v meter che invece va a misurare una scala di decibel analogica e mi segna 0 ho corrispondenza con i famosi meno 18 dbfs e gli 0 in analogico fatti segna 0 se lo lascio anche lui a meno 18 mi entro un segnale meno 18 meno 18 meno 36 ok lo lascerò a 0 qui posso scegliere l'over sampling 8 per o 16 per addirittura per togliere l'eventuale aliasi e qui posso scegliere linea microfono o custom linea e avrò off 1 2 3 4 pre amplificato 5 pre amplificatori microfono e avrò 1 2 3 4 5 pre amplificatori custom avrò 1 2 3 4 5 pre amplificatori 1 2 3 4 quindi 5 10 15 pre amplificatori avremo con questo ecolizzatore quindi ne abbiamo da vendere metto su off e andiamo a vedere subito vedete elettro sinusoide pura mille herzi nessuna armonica generata vedete non si generano armoniche andiamo a mettere sul primo pre amplificatore e vedete che ne ha 1 2 3 4 non sto qua adesso dirvi pari dispari pari dispari perché mi verrebbe un video lunghissimo guardate e fate attenzione solo alla diversità delle armoniche generate e addirittura guardate anche i dislivelli tra una e l'altra di volume quindi i rapporti di volume tra le varie armoniche questo è il primo pre amplificatore line secondo line vedete che è cambiato terzo line cambia ancora quarto line cambia quinto line cambia andiamo mettere microfonici il primo è così la prima frequenza molto alta vedete rispetto al line il primo che era più basso cambiano le tipologie di armoniche ma soprattutto più che altro i volumi è del tra le varie varie armoniche ed è questo che cambia poi il suono è assolutamente non solo se cambiano le armoniche ma anche il gioco di volumi tra una e l'altra secondo è così il terzo è così il quarto è così il quinto è così rimettiamo zero andiamo in custom est cmp pm1 pm2 vedete qua è più alta la seconda della prima pm1 era un po più bassi quasi pare ma un po più bassini in comp vedete andavano in scalare questo genera suoni diversi ovviamente poi abbiamo il pst che è l'ultimo ed è cambiato ancora quindi vedete che sono 15 5 10 15 pre amplificatori completamente diversi che generano armoniche diverse qua vi dovrete sbizzarire voi a provare quello che intona di più con il vostro suono quindi queste sono le armoniche andiamo a vedere linear analysis andiamo a vedere per esempio ecco lo volevo così elettrocardiogramma piatto fino qua poi abbiamo un grandissimo e nettissimo roll off sulle altissime frequenze per il resto ho però disattivati pre amplificatori perché se metto su uno vedete che il disegno è questo se metto su tre circa rimane abbastanza vicino quelli di line perché si vede che hanno preso pre amplificatori abbastanza simili qui cambia un po perché si abbassa se metto su mic l'uno è così il 2 è così il 3 è così il 4 è così il 5 così ovviamente ognuno ha la sua firma sonora custom est u questo è diverso comp è diverso cioè c'è mp pm1 è diverso ancora pm2 è diverso ancora pst è diverso ancora vedete che anche solo la gestione del cambio del tipo di pre amplificatore va a influire su la differenza tra i componenti la tolleranza tra i componenti vedete che lr si comportano in modo leggermente diverso e questo è molto buono poi abbiamo l'oversampling che ve lo faccio vedere dopo perché se io metto su mic che di solito sono i pre amplificatori più colorati e metto in armonica non abbiamo aliasing al momento però provo a aumentare l'input vediamo se eventualmente da aliasi sono più 24 aumento anche l'output no direi che dell'aliasi non ne ho comunque a 8 per vado pulire 16 per pulisco ulteriormente comunque ce l'abbiamo sappiamo che questo lo rimettiamo default questo lo rimettiamo a 0 che era qua perché mi da meno 8 come segnale quando invece doveva darmi 0 il v meter ok spegniamo tutto perché se qui siamo 0 quindi dovrebbe dare come mi dava all'inizio lo 0 perché un v meter segnalo 0 con meno 18 decibel non capisco perché adesso mi è calato comunque ah forse perché ho messo il pre amplificatore esatto col pre amplificatore vedete se io qui sono a 0 attivando un pre amplificatore mi si abbassa il segnale mi si generano le armoniche ma mi si abbassa il segnale ok quindi lo sappiamo adesso il momento lo disattivo lasciamo 0 giusto per capire cosa succede i pre amplificatori le loro firme sonore ve le ho fatte vedere adesso voglio far vedere proprio l'ecolizzatore 20 hertz aumento attivo la banda ovviamente anzi tolgo il c link e disattivo un canale giusto solo per farvi vedere sono la doppia riga può generare casino aumento e vedete a 20 hertz cosa sta succedendo comincia a aumentare già molto ma molto prima vedete quanta roba alza i 20 hertz sono qua ma alzo tutta ancora questa roba qua dai 20 fino ai 360 380 500 con l'attenuazione invece vado a generare uno shelving verso il basso che si andrà ad intersecare a questo shelving che invece alza e quindi creerà il famoso alzo e abbasso vedete questo boom in attenuazione questo ginocchio non strettissimi in attenuazione poco prima della mia frequenza di intervento quindi aumento le bassissime ma tolgo il fango le medie basse diciamo che rompono le scatole ok poi abbiamo invece le alte come vi ho detto prima andiamo ad aumentare poi con questo allarghiamo stringiamo scegliamo la frequenza allarghiamo o stringiamo e poi abbiamo l'attenuazione 20 10 5 vedete 20 hertz 20 mila hertz 10 mila hertz e 5 mila hertz è il classico pulte con in più un taglia alto taglia basso e preamplificatore complimenti acustica audio è veramente un bel prodottino nel prossimissimo video che vi faccio vi faccio vedere i due ecolizzatori smoke questo e quello di nickel del pacchetto nickel che vi ho fatto vedere nel video scorso ma in più vi faccio vedere anche i compressori della serie nickel i preamplificatori della serie nickel e il compressore preamplificatore della serie smoke ok grazie a tutti al prossimo video